Poi essere ritornati a suonare dopo tanto tempo, bello vedervi. Pare Stavolazzi, Alfredo Golino, grazie. Il trio Kala, questa sera presentiamo appunto il nostro nuovo CD che si intitola Indako Hanami. I primi due brani erano mie composizioni, il primo era appunto Indako e questo era Bobo Skoud, in realtà dedicato a un grandissimo pianista svedese che si chiama Bobo Stenson. Il prossimo invece è un omaggio ai Beatles che noi abbiamo suonato come ci sentivamo di suonare, un po' rivisitato. Buon ascolto.